ciao a tutti ragazzi buon martedì oggi è il 14 giugno 2022 quindi manca sempre meno a venerdì quando su amazon andrà poi a uscire il documentario relativo a paul pogba allora partiamo con una carrellata di notizie e di approfondimenti in relazione a quelli che sono stati gli argomenti della giornata e poi nel pomeriggio invece voglio portarvi un video a parte dedicato a un nome nuovo per l'attacco molto intrigante che in realtà non è nemmeno nuovissimo ma è un nome che esce sempre in orbita juve aspetto solo che escano qualche che esca qualche notizia in più qualche conferma in più e vado a farmi anche un po' più in idea generale voglio portarvi qualche numero qualche statistica qualche posizione in campo qualche hit map per cercare di approfondire un attimo il discorso un profilo che mi piacerebbe tanto per il momento non ve lo voglio rovinare forse qualcuno l'ha già letto qua e là comunque questo dovrebbe essere un nome interessante per la juventus ieri sera gialluca di marzo confermato di miral torna alla casa madre alla juventus perché perché l'atalanta poi non andrà a riscattare il cartellino del turco che quindi farà ritorno a torino e poi vedremo che cosa succederà ragazzi io lo torno a dire per l'ennesima volta l'anno scorso la juventus ha cambiato strategia societaria e quindi l'idea è la seguente finché ho un giocatore in un determinato ruolo non cerco un altro giocatore in quel ruolo lì piuttosto lo faccio andare via lo tengo e poi lo faccio andare via come abbiamo visto con bernardeschi come abbiamo visto con dibala non dico con del ciglio perché quanto pare rinnovato questa dovrebbe essere l'idea su alexandro tante volte abbiamo detto alexandro non vuole andare a un anno di contratto bene lo portiamo a scadenza e l'anno prossimo poi sarà un giocatore di un'altra squadra se non vuole muoversi questo sembra essere il piano della juve lo condivido no non lo condivido l'anno scorso ma questa è la strategia della juventus e quindi mi immagino un demiral che finché non arriverà un'offerta per la cessione rimarrà la juventus quindi in questo momento del hit bonucci demiral gatti rugani ne abbiamo cinque in questo momento ne abbiamo cinque e non credo che la juventus vada a cercare sul mercato un altro difensore centrale per quanto mi riguarda è necessario un grosso investimento in difesa un nome importante non credo nemmeno che demiral sia disposto a fare panchina dato che era stato il motivo che l'aveva allontanato la torino l'anno scorso e probabilmente è anche uno dei motivi per cui poi l'atalanta non rimarrà perché non sempre demiral giocato titolare e poi deve essere successo qualcosa come ci hanno già evidenziato sottolineato perché sennò demiral per l'atalanta è un ottimo giocatore un atalanta che quest'anno non andrà a fare la champions e forse ha un pochino di risorse meno rispetto agli altri anni era prevedibile lo immaginavamo ma demiral dovrebbe tornare alla juve non aspettatevi colpi in difesa finché non abbiamo ceduto appunto il turco qualora ci fosse la volontà di cederlo io immagino di sì non è detto di maria parlate voi ormai di di maria io io sono abbastanza stanco ve lo dice uno che che lo voleva quando è uscito l'uomo di maria ero carico ero galvanizzato adesso sono semplicemente scocciato e non posso farci niente sono scocciato perché non è possibile tirarla così tanto per le lunghe per un parametro zero vuoi venire la juve questo è il contratto accetti sì no hai una deadline oggi romeo conferma che non c'è stata una vera e propria è un vero e proprio countdown della juventus un vero e proprio ultimatum con data questo invece bisogna darlo ragazzi per quanto di maria sia un'operazione di mercato interessante chi se ne frega cioè dobbiamo fare la squadra è inutile girarci intorno quindi sono veramente molto molto stanco da discorso di maria e qualcuno mi dice sì però ti stai stancando troppo in fretta di maria un campione bisogna aspettarlo ci vuole pazienza sì ragazzi nel calcio mercato ci vuole pazienza ma con i parametri zero no con i parametri zero prenderlo lasciare cioè io ti faccio la proposta questa è l'offerta ne hai una migliore accetta quell'altra se hai interessato la mia bene firma cioè non stiamo parlando di convincere un club di convincere una determinata modalità d'acquisto non stiamo parlando di ogni quanti anni dobbiamo pagare cioè stiamo parlando di vuoi venire a giocare la juve questa è l'offerta con i parametri zero un'attesa così lunga non può essere tollerabile almeno personalmente non la vedo tollerabile e qualcuno potrà dire stessa cosa per Pogba e dicevamo prima si avvicina venerdì dove ci sarà il documentario io sono combattuto perché la mia prima idea è stata ma figurati se Pogba va a rivelare all'interno del documentario un'informazione del genere relativa al suo futuro la mia parte razionale è ancora grappata a questa cosa la parte logica invece mi porta a pensare che possa effettivamente accadere visto che è passato tanto tempo Pogba Juve è tutto fatto questo annuncio tarda ad arrivare guarda caso c'è quel documentario c'è una terza opzione e cioè che possa essere una scammata atromica di quelle veramente nel senso creo tanto hype anche le voci sul PSG dell'altro giorno secondo me erano state create ad hoc per creare hype sul documentario questo hype effettivamente si è creato io prima lo volevo vedere sì ma non con così tanta insistenza e quindi lo guarderò al day one lo guarderemo insieme su twitch ho paura che poi alla fine invece non ci sia nessun annuncio di Pogba e che possa essere tesserato a luglio perché inizia un nuovo bilancio per la Juventus dopo il 30 giugno quindi attenzione che nella mia testa si fa parte anche l'ipotesi scammata allucinante creo tanto hype per questo documentario che poi alla fine non avrà niente di che al suo interno fatemi sapere un po' che cosa ne pensate perché io ci sto continuando a pensare giorno dopo giorno e non riesco a dare una spiegazione logica Suarez a quanto pare è stato effettivamente offerto alla Juventus anche la gazzetta oggi in prima pagina conferma questa cosa l'entourage di Suarez sta cercando una collocazione idonea all'attaccante e la Juventus è stata una delle società contattate come vi ho già detto ieri io Suarez sinceramente francamente faccio un po' fatica a vederlo come vice Vlaovic proprio perché certi giocatori difficilmente li mette in panchina Suarez non è più un ragazzino anzi è assolutamente un giocatore in fase calante è sul termine della carriera e sicuramente uno come dicevo ieri non verrà eventualmente a fare la riserva Suarez non viene a fare la riserva non se ne parla e due non è raffinatezza ventola ma sono soldi Suarez perché Suarez è sicuramente a livello di ingaggio almeno almeno 10-12 milioni secondo me li chiede che è vero che col decreto crescita sono meno però stiamo sempre parlando di cifre molto molto elevate per un giocatore che non sarebbe titolare o comunque nell'idea non dovrebbe essere un titolare perché anche ieri qualcuno mi ha detto sì però dov'è la programmazione dov'è lo scouting della Juventus se il profilo richiesto è un profilo di esperienza non ci può essere scouting perché l'esperienza significa che comunque la sua carriera l'ha fatta significa che bene o male tutti li conoscono e ieri non mi è piaciuto non mi è piaciuto un clima che si è creato all'interno dei commenti di questo video inerente a giochi Suarez perché ragazzi sempre meno sul web si riesce a tollerare le opinioni diverse sempre più si porta avanti questa idea che l'opinione è mia ed è quella giusta l'opinione è tua, è diversa, è sbagliata questa cosa non esiste questa cosa non esiste se secondo me Dzeko è una buona idea come vice Vlaovic perché verrebbe gratis e verrebbe con uno stipendio sui 4 milioni ieri dicevo massimo 5 ma secondo me siamo già oltre secondo me 4 milioni di euro per Dzeko un paio d'anni di cui non paghi il cartellino come vice Vlaovic magari, magari sono più contento di avere Dzeko come vice Vlaovic che Ken come vice Vlaovic sono più contento di avere Suarez come vice Vlaovic piuttosto che Ken come vice Vlaovic e non me ne frega niente se qualcuno ha un'idea diversa benissimo, non c'è problema tientela non è questo il problema io ho una posizione tu hai una posizione non c'è problema quando poi questo discorso del tu però la pensi diversamente da me e quindi è un tornaconto a me fa girare i coglioni e quindi lo dico adesso chiaro e tondo e non voglio più tornare sull'argomento non voglio che poi qualcuno caschi dalle nuole dicendo ah com'è possibile d'ora in avanti quando ci saranno dei commenti che alludono alla mia malafede ci sarà il ban perché qui si può dire quello che si vuole le opinioni sono tutte tutte considerate valide ma nel momento che mi si dice che io dico una cosa X o una cosa Y perché la Juventus mi paga o perché la Juventus mi fa andare gratis allo stadio siete fuori di testa perché Juventus non mi ha mai dato un euro Juventus non mi ha mai dato un biglietto Juventus non gliene frega niente di quello che dico sul mio canale dico quello che mi pare e se penso una cosa la dico è anche questa storia che non critico ma che cosa vuol dire non critico? ma vi siete visti i video che ho fatto quest'anno? ma vi siete vissuti questa stagione sul canale? se ve la siete vissuta o non avete capito quello che è stato detto qui sopra perché qui di critiche ce ne sono sempre state sempre sempre non ultimo un video in cui in mezz'ora vado a descrivere i macroerrori dell'juventus degli ultimi anni dicendo che questa storia non può continuare così ma quello a quanto pare non è critica oppure si vuole andare in una certa direzione anche senza aver visto anche senza sapere e allora sapete cosa c'è? io con certe persone non voglio perderci tempo e quindi lo dico adesso che non ho ancora fatto niente e questa sarà la verità assoluta se qualcuno arriverà ancora a rompere le balle nella community nei commenti con queste teorie strampalate io non ne posso più non ne posso più avete stancato le opinioni sono sacre e sacrosante le diffamazioni sono un'altra cosa chi vuole intendere intenda perché anche questa storia di dire che io chi nosce colpo gobbo non critichiamo non è che se non senti esattamente quello che vuoi sentire te non sono critiche sono critiche che non sono magari estremiste come il tuo pensiero perché ehi ancora una volta è un'opinione e ho diritto ad averla come tu hai diritto ad averla tua e non vengo a romperti le palle perché la pensi così la puoi pensare come vuoi come ti pare ma nel momento in cui metti bocca all'interno di discorsi che non conosci di cui non sai niente e in cui spari spari delle cose sul lavoro delle persone allora poi cambia tutto non sono pagato da Juventus Juventus non mi ha mai fatto andare allo stadio gratis perché lo so che ci sono stati alcuni creator a cui ho risposto anche nei video ho risposto nei video che hanno fatto dei contenuti di questo tipo ne hanno fatti e io sono andato sotto a rispondergli per spiegare la situazione questa situazione non si è mossa di un millimetro e queste persone comunque continuano a mandare altre persone a dire queste cose e allora io con un commento sotto quel video pensavo di averla risolta a quanto pare non è così e quindi passo al livello successivo perché mi sono stancato di perdere del tempo non esiste dire che dato che considero Dzeko un'idea logica come vice Vlaovic quindi non come titolare sono pagato dalla Juventus ma stiamo scherzando stiamo dicendo vero ogni tanto mi sembra di essere nel mondo delle favole ma tanto che queste cose tutti i giorni qualcuno potrà dire si dai non prendertela fregatene e faccio sempre così perché quante volte faccio questi discorsi nei video mai poi però se arriva un punto di rottura un punto limite perché tutti i giorni continuare a leggere queste puttanate ha una certa da fastidio il fastidio me l'avete dato siete contenti ho dedicato 5 minuti in chiusura di video a questo argomento l'ho fatto bene prossimi commenti con questo tono non rispondo neanche parte il ban perché mi sono stancato ci vediamo oggi pomeriggio con il video che avevo promesso sul nome nuovo spoilerino è brasiliano ciao ciao Grazie a tutti